Ciao, sono Fabrizio, ma nel mondo... dai, sono... tra le varie cose sono giocoso L'unico gioco che non pratico è quello del trading o quello della borsa Quindi Fabri, tu giochi in borsa? No, nessuno di noi, nessuno di voi, neanche tu giochi in borsa, ok? Allora, scendiamo nei dettagli rispetto al video precedente Quindi, togliamo un attimino qui Allora, ti voglio raccontare questa cosa Allora, i cicli li trovi in tutto il mondo Nel senso, tutto l'universo è ciclico Ma ognuno di noi può aver sviluppato una propria teoria ciclica E usarla, ad esempio, nel mondo del trading Allora, io vorrei farti arrivare a un concetto importantissimo in questo video Se tu pensi di utilizzare i cicli per prevedere il futuro Che come nel mio video della presentazione che hai visto, no? Non esiste, ho detto Allora, niente, non potremo mai legare Diciamola così Quindi, i cicli sono uno strumento, ok? E come tale, questo strumento va utilizzato, ok? Ricordati anche che nella tua giornata, quando operi in borsa Sei un trader che si alterna ad un analista, ok? Quindi in certi momenti dobbiamo analizzare e basta In altri momenti dobbiamo operare e basta E quindi questa è una distinzione importantissima Anche qui non ho molto tempo L'andremo poi a comprendere meglio Allora, il discorso è questo Se tu pensi che dopo un G4 Il prezzo inizia a salire Vada sopra la media, bla 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 E ti parta un G1 Benissimo Poi pensi che ti faccia il G2 Va bene È tutto legittimo Poi pensi che ti faccia il G3 Anche qui è legittimo L'abbiamo detto prima Benissimo Partiamo dal punto che più Mi ha sbloccato nel creare il mio modello ciclico Il G4 No? Perché è questo? Cosa ti voglio dire? Ti racconto una mia esperienza Anzi Sì, l'esperienza è una Ma è stata reiterata più volte Allora, il discorso è questo Agli inizi dell'utilizzo del ciclo Del modello ciclico O dei cicli, insomma Sono stato molto fortunato Perché? Perché praticamente Quando si chiudeva il G3 E mi ripartiva il G4 E poi iniziava un po' magari a indebolirsi qui così Io anticipavo il breakout La rottura, no? Della quotazione battuta sul minimo Di ripartenza del G4 Ed entravo short E già quello era un errore E te l'ho detto nel video precedente Di non farlo Però Però C'è di peggio Perché usavo i cicli per fare le previsioni E quindi che cosa capitava? Capitava questo Che io mi ritrovavo magari, no? Un G3 Poi partiva un G4 Shortavo già qui Poi lui saliva E io shortavo ancora Saliva Shortavo ancora E mi sfregavo le mani Mi brillavano gli occhi Cioè adesso faccio un gain pazzesco Perché tanto nella mia testa c'era il modello ciclico teorico Che da previsione mi diceva G3 E poi G4 E quindi vedendo questo Ma questo lo vedevo solo nella mia testa Perché non esiste Credendo che i cicli Usati come uno strumento per Prevedere O per dire il futuro Fossero il top Allora Gli davo fiducia Bene Sono stato molto fortunato all'inizio Perché veramente Quando saliva qui la quotazione Shortavo ancora Saliva E io ero ancora più felice Perché dicevo Quando poi scenderà Tanto deve scendere Si deve chiudere il ciclo Fare un sacco di soldi Sono stato fortunato Veramente Ne ho fatti Veramente tanti E mi è andata bene Un sacco di volte Questa è la realtà Però poi Non puoi Vivere di fortuna Ok Se vuoi diventare un trader E pensare che la fortuna E la sfortuna Nella tua giornata Non c'entrino niente Con questa attività Questa è una cosa Molto importante da comprendere Quindi mi ha preso Per mezzo P Lo stop loss Ok Non è sfortuna Punto e basta Non sarà quello La fine dell'anno A fare la differenza Ok Bene Allora Un giorno Che cosa è successo Che c'era il G3 Poi partiva il G4 E io l'ho shortato Poi è salito E io l'ho shortato Poi è salito E io l'ho shortato Poi è salito E io l'ho shortato Ad un certo punto Il ciclo G4 Si è chiuso Però Non ha fatto Una discesa Sufficiente Per potermi far uscire Con il mio prezzo medio Di carico Ad un certo punto Quindi era qui Dicevo Eh se esco qui Le perdo Anche come prezzo medio Di carico Non ci sto Quindi Mi facevo il calcoletto Dovrebbe arrivare fino qui Allora se arrivo lì Mi salvo E per stavolta Va bene Tutti gli altri soldi Che ho fatto E non erano pochi Benissimo E avanti tutta E in realtà Poi Anche questo è capitato Nel senso che Quando ero qui Benché magari Il tempo fosse un po' tirato Poteva già anche ripartire Il ciclo dopo Sgambava E ne sono venuto fuori Bene anche qui Anche qui Ho guadagnato parecchio Però Adesso arrivo al punto Che in realtà Mi ha fatto guadagnare Più di tutto Perché se io avessi Proseguito su questa strada Era solo questione di tempo E prima o dopo Mi sarei trovato In una situazione Con un'esposizione Veramente Importante E Mi sarei potuto Prendere Una sonora Strigliata Ne ho prese Ne ho prese Di sonore Strigliate Ma per fortuna Ero agli inizi E quindi Ero meno capitalizzato Bene Quindi è meglio Che i problemi Vengano fuori agli inizi Poi quando Ci incamminiamo Iniziamo la nostra scalata Bisogna essere ben strutturati Di modello Di testa Eccetera Eccetera Allora E' arrivato un giorno Qui il prezzo E io dicevo Deve arrivare qui Così mi salvo ancora E il prezzo Riprende a salire E poi sale Sale E ad un certo punto Niente Per me Non era più sostenibile Il loss E niente Quindi ho dovuto Amaramente Accettarlo E l'ho accettato E ho preso Una sonora Strigliata E ho ridato Al mercato Tantissimi di quei soldi Che avevo fatto Ok Però non mi è bastata Una volta Ce ne sono volute Ancora altre Due Sostanzialmente Quindi Due o tre casi Così Adesso Uno Non me lo ricordo Benissimo Ma Glielo metto dentro Ma due Me li ricordo Ancora Dopo tanti Tanti anni Quindi Almeno due casi Importanti Per darmi una sonora Strigliata E farmi capire Che non si debbano Usare i cicli Per fare le previsioni Ma si devono usare i cicli Per tracciare un percorso teorico E fino a quando Questo percorso teorico Viene seguito Bene E' più facile tradare Ma quando non viene seguito Bisogna accettare una frase Che io ho detto Tanti anni fa Già nel web E poi per fortuna Ho avuto modo Di dimostrare Che questa frase Sia una realtà Perché all'inizio Sembrava un po' Ti anticipo Ti esprimo Il concetto al contrario La frase che dicevo Sembrava un po' Se non è zuppa È pan bagnato In realtà Pian piano Anche con massimilità Mi impegno da parte mia In migliaia di video E di non so quante ore Di spiegazioni Ho fatto capire Che se il ciclo Non fa quello che deve fare Farà con veemenza Il contrario E proprio questo È interessante Che non solo Tu ti aspetti Che magari vada giù Se non lo fa Va su Ma va su con veemenza E questo capita Quando arrivano Delle aritmie E di nuovo Come da video precedente Tutti si aspettano questo No? Tante volte Qualcuno Che gli inizi Con i cicli Mi dice Fabri ma mi vedono E io so già Che cosa vuol dire Cosa vuol dire E vuol dire Che quella persona Lì sta entrando Dove entra long Appena è entrata long Gli va short E viceversa No? Ma perché? Perché magari Sta improvvisando Uno studio ciclico E va bene così In fin dei conti Anch'io ho imparato da solo No? Da autodidatta Quindi se vuoi fare i cicli Da autodidatta Ben che venga Ci mancherebbe altro Forse potresti risparmiarti Due anni E due mesi E venti ore al giorno Che ho già fatto io Per te Allora Quando qualcuno Che usa i cicli Magari Che ne so Va long Qui No? E il prezzo In realtà Poi gli va giù No? E perché Con buona probabilità Non ha visto Che in realtà Il ciclo Diciamo Uno Ha fatto proprio Come da modello teorico Ma il ciclo Due Magari Ha fatto Una aritmia Se non le sai Riconoscere E ti spiazzano Tutte le aritmie Spiazzano tutti Gli indicatori ciclici Uso questo E qualcos'altro Ma Siccome li uso Da tantissimo tempo Ho imparato No? Ad usarli Nel senso Ho imparato Pregio e difetti Ti dico questo Perché l'indicatore ciclico Perfetto Che ti intercetti Tutti i cicli Perfettamente In partenza In chiusura Non esiste Non esiste Perché se esistesse Sarebbero Come dire Andremmo a Limitare La vita stessa Del ciclo E quindi questo Andrebbe a Non so Da un'altra parte Potrebbe Andare da un'altra parte Dice ok Qua ormai Ho capito che è così Devo smettere E farò qualcos'altro Quindi i cicli Si interromperebbero Ok Allora Non esiste L'indicatore ciclico Perfetto Questo mi dà una mano Non di poco conto Bene Allora qui ciclo Poi faceva così Dopo l'aritmia E la persona Qui si credeva Ancora sui tempi Arancioni Entrava long E invece Doveva entrare short No E poi quando La persona Sui tempi arancioni Non si accorge Dell'aritmia Qui vai short E in realtà Il prezzo È proprio lì Nel momento Che sta per ripartire Ok Quindi Non è che ti stiano Vedendo E quindi vadano A fare il contrario O a metterti Il bastone Tra la ruota Se tu vai long Loro vanno short E viceversa E che Bisogna imparare A trovare Queste aritmie Ok Che sono una parte Molto importante Del mio modello ciclico La parte più importante È quella mentale Cioè di accettare Che la componente ciclica È presente Ma si vada A mescolare Con delle aritmie E quindi È importante accettare Che i cicli Non vanno studiati Non vanno imparati Per prevedere Il futuro Che non esiste Per fortuna Ok Così lo possiamo creare Noi come vogliamo Tra le varie cose Allora Questo cosa vuol dire Che se tu Inizi i cicli E fai così E mi dici Guarda siamo qui Poi andremo qui E poi ritorneremo qui Io ti dico No Non usare Il mio modello ciclico In questa maniera Qui No Ti prego assolutamente no Ma Ma Se tu ad esempio Mi dirai Siamo qui Su tempo maturo Lo disegno teorico La ripartenza Cosa dovrebbe esserci Dopo un G4 Un G1 No Che potrebbe far così Benissimo Allora Se tu mi dici Dopo il G4 Al 70% Mi parte un G1 E dovrebbe far così Siamo d'accordo E in più Andiamo nei dettagli Ovvero Dovrebbe fare Un bel impulso Allora Se tu invece Noterai Un laterale rialzo E comincerei a dirmi Fabri Mi da la sensazione Che qui non ci sia forza E andremo ancora giù Quando romperemo il minimo Andrai short E ancora meglio Se in tempo maturo Per gli short Allora stai iniziando Ad utilizzare il mio modello ciclico E ti capiterà E capitato veramente A centinaia di persone Ringrazio tutte quante Con questo singolo Grazie Perché veramente siete tanti Il modello ciclico L'ho condiviso nel web Già tanti anni fa E' piaciuto sin da subito E' una potenza Prenditi il tempo Di studiarlo con calma E vedrai Ben presto I frutti Del lavoro Mio E anche tuo Perché lo starai studiando Ed applicando Ok Quindi il discorso è Che queste persone Che ho detto prima Tante volte Mi mandano delle mail Mi chiamano Eccetera Fabri guarda Lo sapevo Che avrebbe fatto così Me lo sentivo Poi Stiamo un po' Magari al telefono Piuttosto che scambiamo Due o tre mail E ci allineiamo Capendo che Non era una sensazione Sovrumana Extraumana Non umana Ok Da supereroe No no E che Sempre di più Impari a ragionare Nei termini di causa D'effetto E quindi A colpo d'occhio Comincerai a percepire La forza La debolezza In funzione di che cosa Della variabile Tempo E' questo Che ti voglio far portare A casa Poi Comprerai O venderai I prezzi Va bene Quindi l'azione Del prezzo E' fondamentale Ma in funzione Del tempo Perché nella nostra vita O nell'universo Tutto in funzione Del tempo Quella è la priorità Ok Prova a ragionare Fatti un qualsiasi esempio Se è una questione Magari di soldi O di tempo In questo momento Voglio Cambiare casa Cambiare auto Non lo so Ok Bene Metto quell'obiettivo E' una questione di soldi O' una questione di tempo Prova a ragionarci Io ti dico Che è una questione di tempo Non è una questione di soldi Ok Poi potremmo anche Dire che è una questione Di determinazione Da distribuire nel tempo Va bene Ma ne parleremo poi Ok Quindi detto questo Il tempo è fondamentale Ok Ragionando con il tempo Allora riuscirai a Prevedere Dove potrebbe andare il prezzo Ma Fabio Avevi detto che non dobbiamo Intraprendere O un alert Scusatemi che mi suona Di un'operazione Arrivo subito Ok Rieccomi Scusatemi Quindi Fabio Hai detto che non devo Usare i cicli Per prevedere Adesso hai finito il video Dicendomi che possiamo Fare le previsioni E Ti faccio un ultimo esempio Mi allungo ancora Mi prendo ancora O Ti strappo ancora 5 minuti Di attenzione Tutti quanti Perché poi magari Li danno negli orari Non casuali No nulla È fatto a caso Abbiamo visto Un quiz televisivo No Quindi Abbiamo giocato Magari mentre mangiavamo pranzo Piuttosto che cena O mentre eravamo A rilassarci sul Sul divano No Bene Allora Io faccio un quiz Ti faccio tre domande Ok Tu puoi rispondere Giusto Ma le è tirate a caso Però Tu mi devi solo Dalla risposta No Se la zecchi Bene Se la sbagli Pazienza Ma non ti chiedo Il perché della tua risposta Di fortuna Ma quante volte Rispondendo alle domande Dei quiz Le azzecco No E faccio tra virgolette Si scherza Ovviamente È una bella figura Ma io ho tirato Letteralmente a caso No Magari nella stessa puntata C'è una persona Che riceve le tre domande Le risponde giuste E le azzeccate Per pura fortuna Mentre C'è un'altra persona Che magari riceve Tre domande Facciamo finta Che l'altra persona Sia molto più preparata Per proprio karma Quindi ha potuto studiare Eccetera Magari riceve tre domande Che proprio Boh Nella sua vita Non ha mai sentito parlare Di quelle tre cose lì E le sbaglia Ok E quella è una puntata Ok Ma Ma Se questo quiz Anziché durare una serata No Durasse un'annata Alla fine dell'anno Vince Chi ha la consapevolezza Chi ha la conoscenza Ok Non Chi ha fortuna E quindi Oltre A questo discorso qua Che ti ho detto Cerca di capire Quello che volevo dirti Che cosa aggiungo Aggiungo che Io Se parto con l'idea Di usare i cicli Per prevedere Sono come Quel concorrente Che tira a caso Le tre risposte Le azzeccherò Per dei periodi Ok E poi Ridarò tutto al mercato Se io invece Sono preparato Ci saranno quei periodi Dove prenderò Tre stop loss di fila No Come concorrente Che sbaglia tre risposte Ci saranno Per carità Però Avrò la consapevolezza Avrò la conoscenza Lo studio E anche poi la pratica E alla fine dell'anno Andrò a ritirare I soldi Alla fine dell'anno Ok Quindi diamoci i tempi Fisiologici Allora Se ho le competenze E non tiro più a caso Posso anche fare le previsioni Perché Perché sto ragionando Nei termini di causa Ed effetto Ok E ben diverso Il risultato Potrebbe essere lo stesso No Come i due concorrenti Tutte e due Questa volta rispondono correttamente Uno ha tirato a caso E ha fatto le previsioni Andrà qua Poi andrà qua Poi andrà là Ci ha zaccato Ha tirato a caso L'altro invece Ha conoscenza Consapevolezza E tutto quello che vi ho detto E dirà In base alla legge di causa ed effetto C'è forza E da qui andremo fino a qui Adesso qui percepisco In base alla legge di causa ed effetto Della debolezza E quindi credo che potrà scendere E andrò short Qui però rivedrò Causa ed effetto long Allora stimerò che andrà su E il percorso che ha fatto È lo stesso Di quello che aveva Ipotizzato la persona Che ha tirato a caso Come il concorrente ad un quiz Che non sa la risposta La tiro a caso La tira a caso Anch'io la tiro a caso E la zecchiamo Grazie mille dell'attenzione Stammi bene E avanti tutta Ciao ciao Vado adesso a controllare il mio trade Un attimino Ciao ciao